Ragazzi, ma che gol ha fatto, che gol ha fatto Lautaro? Come ha detto l'allenatore del Perù, quello è un gol che soltanto i grandi attaccanti sanno fare, soltanto i grandi attaccanti. Ragazzi, quindi criticare Lautaro mi sembra un pochino eccessivo. Noi abbiamo la fortuna di averlo in squadra, quindi teriamocelo buono, coccoliamocelo un po', anche perché con quel gol lì poi lui raggiunge, come segnatore, come goleador dell'Argentina, un certo Diego Armando. Com'è che ci chiamavano già? Diego Armando, Diego Armando, Maratona, qualcosa del genere. Ragazzi, questo ha raggiunto Maradona, e voglio dire come goleador dell'Argentina, dell'Argentina, che di goleador ne ha avuti parecchi l'Argentina, e lui ha raggiunto Maradona. Solo che i gol che ha fatto Maradona, l'ultimo gol lo fece che mi pare che aveva 34 anni ai mondiali, una roba del genere. Lui non c'è ancora 34, ne farà degli altri probabilmente, con ogni probabilità, diciamo così. Anche perché non l'hanno fatto cominciare subito a giocare, perché c'erano altri che avevano la precedenza su di lui, poi un pochino alla volta, dato che lui è un grande giocatore, si è ritagliato il suo spazio, e adesso titolare inamovibile dell'Argentina. Dell'Argentina, ragazzi, non del San Marino, con tutti i rispetto per San Marino, che non ha mai vinto una partita, faccio per dire, no? Quindi farsi strada dove ci sono i più grandi, vuol dire che sei grande anche te, e quindi teniamocelo volo e basta con le critiche. Parlo anche a me stesso, perché anch'io in passato l'ho criticato, faccio un mea culpa, e ve lo affido nella speranza di essere perdonato. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Jonathan David all'Inter. Allora, ieri ho fatto un video dove ho segnalato che si era parlato di questo fatto che Jonathan David, 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 vorrebbe giocare nel Barcellona. E allora ha spento un pochino gli animi, gli entusiasmi di tutti quanti, Inter e anche Juventus, con questa dichiarazione. Però in realtà pare che ci sia già una trattativa in corso da mesi con Jonathan David per quanto riguarda l'Inter. E che questa trattativa non si sia fermata. Perché? Perché? Perché quello che lui ha detto, in realtà, è quello che sospettavo poi io, ieri. E cioè, mi piacerebbe tanto giocare nel Barcellona una volta che Lewandowski se ne andasse. Quindi, adesso in questo momento non ci pensa proprio Lewandowski ad andarsene. Segna rotta di collo. E quindi diciamo che la trattativa con l'Inter o eventualmente con la Juventus può tranquillamente andare avanti. E questa cosa qui è una cosa che riguarda il futuro. Non certo adesso. Poi, magari, una volta che dovesse venire all'Inter, come tutti quelli che vengono all'Inter, si innamora dell'Inter e dopo non vuole più andare via. Hai visto mai? Hai visto mai? Se no, se vuole andare via, che vada. Alla fine, vorrei dire, avrà fatto quello che deve fare e quindi saremo tutti felici e contenti. O magari si rivela essere che magari non funziona con l'Inter, come Taremi, che funziona da altre parti, ma con l'Inter non funziona. Non so se ha insoggiazione, se ha dei problemi psicologici, non lo so, non lo so. Comunque, magari Jonathan David verrà all'Inter e poi magari non funziona e allora lo manderemo via. Come sta cercando di fare Oktri con Taremi, che lo vuole mandar via al più presto possibile, possibilmente a gennaio. E si è parlato della Saudi Pro League, della Saudi Pro League, gli arabi, insomma. Gli arabi e gli iraniani non è che si amano tanto, a quanto ho sentito dire. Però il calcio, diciamo, prevarica queste barriere, queste difficoltà. Infatti pare che ci sia già stato un avvicinamento, un abboccamento di qualche squadra araba nei confronti di Taremi. Poi staremo a vedere. Comunque, in ogni caso, rimane il fatto che Oktri non lo vuole. Non lo vuole e lo vuole dar via, anche se ha già pagato la commissione, che pare che sia 8-10 milioni. No, 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 aspetta, no, 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 forse sì. Beh, non mi ricordo. Diciamo che ha già pagato comunque la commissione e non gliene frega niente, lo vuole mandar via perché non rientra, diciamo, nei suoi parametri. Non è abbastanza giovane, costa troppo e tutto questa roba qua. Ma veniamo alle voci su Cialanoglu. Cialanoglu ha fatto bene, due cose sono da dire su Cialanoglu. La prima, diciamo questa qui, ha fatto bene o ha fatto male ad andare via? A rimanere, scusate, a rimanere con la Nazionale invece di tornare a Milano, alla Pinettina. Diciamo che, ah sì, perché poi si sarebbe fatto curare lì, non soltanto per il fatto di tornare a casa, che sarebbe stato suo dovere, ma anche per il fatto che una volta che è alla Pinettina poi ci sono i dottori a curarlo, che già lo conoscono. conoscono tutti i suoi problemini, anche quelli che non sono scritti nella cartella clinica. Tutte quelle cose che magari si dicono quando si visitano i giocatori. I giocatori dicono questo, lo ascoltano, imparano, conoscono. Cioè, capite? Tutte queste cose qui. Però c'è anche il fatto deontologico. E cioè, l'Inter è la squadra che ti paga lo stipendio, quindi cosa devi fare? Deontologicamente parlando sarebbe dovuto tornare. Su questo non c'è dubbio. Se questo non c'è dubbio. Perché, appunto, per tutte queste cose che ho appena citato. Però, 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 c'è il fatto che Marotta ha dato il suo benestare. Marotta è il presidente. Se il presidente dà il suo benestare, qual è il problema? Se lui, il suo cuore, diciamo così, l'ha spinto a voler rimanere con i suoi compagni, perché so che è nato in Germania, è cresciuto in Germania, tutto quello che si vuole, però lui, quello che ha dentro, lo sa lui. Non lo sappiamo noi. Il fatto che sia nato in Germania non significa che lui si senta tedesco. Lui si sente turco, ragazzi. Si sente turco. No, lo dico perché ieri qualcuno ha trovato questa cosa da dire sul fatto che sia nato e cresciuto in Germania e quindi non sente tanto il patriotismo, l'amor patrio nei confronti della Turchia. Ma probabilmente sì. Infatti ha voluto rimanere con i suoi compagni. Con i suoi compagni che non sono tedeschi, sono turchi. E quindi, vabbè, in ogni caso, Marotta ha dato il suo benestare e quindi basta. Chiuso l'argomento. Lui ha fatto bene a restare lì. Tanto, curato di là, curato di là. Sì, ci sarebbe stata una differenza. Magari, non so, i dottori della Pinettina sono più bravi. Non lo so. Comunque lo conoscono. Tutto quello che si vuole. Ma, come dice il detto, al cuore non si comanda. Se il suo cuore gli ha chiesto di rimanere con i suoi compagni per dargli manforte, anche dalla panchina, che poi hanno perso lo stesso, però, anche dalla panchina, lui ha fatto bene a farlo. Aveva il permesso della società, nessun problema creato da Marotta, perché, vedete, la nostra società, nelle persone di Marotta, e tutti quelli che sono intorno a lui, la nostra società ama i suoi giocatori. Li ama. Gli vuole bene ai suoi giocatori. Non c'è soltanto una questione finanziaria, di convenienza. No, 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 no. C'è anche questo affetto nei confronti dei giocatori che i giocatori sentono. E, infatti, si può permettere di chiedere, magari, a Marotta il permesso di rimanere con la squadra. E Marotta glielo dà. Quindi, basta parlare di questa cosa. Finiamola lì. L'ultima cosa riguarda Cialanoglu, quell'altra. Dunque, c'è la possibilità che venga squalificato per due o tre giornate, per la faccenda degli ultras, della curva e tutte quelle cose di cui da un po' non sentivo più parlare. Adesso sta tornando, diciamo, in auge l'argomento, perché siamo vicini a un'eventuale sentenza, a una possibile, a una sentenza, non a un'eventuale, è possibile. A una sentenza. Allora, la punizione può essere di due o tre giornate. Sono un... A me questa cosa, ragazzi, mi sa di operazione politica contro l'Inter. Voi direte che sono un complottista. No, no, non sono un complottista. Però mi sa di questo. In questo caso, mi sa di questo. Perché? Perché Ciala è un giocatore fondamentale per il gioco dell'Inter. Obiezione che già mi sembra di sentirlo. Quindi l'Inter è Cialanoglu dipendente? Quindi l'Inter non è così tanto forte come si pensa? Perché? Perché in effetti, in effetti, con Cialanoglu, noi abbiamo il 70% delle vittorie, circa. Senza Cialanoglu scendiamo sotto i 50%. Quindi la differenza con Cialanoglu o senza Cialanoglu c'è. Questo cosa vuol dire? Che l'Inter è meno forte? Che l'Inter è Cialanoglu dipendente? Sì, vuol dire proprio questo. Come tutte le squadre del mondo, dipende dai suoi giocatori migliori. Se hai dei grandi giocatori in squadra, vinci. Se non li hai, non vinci. Potrà andarti bene qualche volta. Poche. Qualche volta ti andrà bene. Ma senza i grandi giocatori, non vinci. Ok? Quindi è inutile che veniate a tirar fuori magari qualcuno ma l'Inter non è così forte. L'ho sentita questa frase, l'ho sentita. L'Inter non è così forte perché se non c'è Cialanoglu non vince. Non vince sempre. Non vince più spesso. Ma vince ancora perché vincere sotto il 50% è poco. Non si vincono titoli. Però si vince. Non è che non si vince. Vincere sotto il 70% è molto meglio. Quindi, in pratica, il discorso del complottista, fra virgolette, è questo. Squalificare Cialanoglu significa indebolire l'Inter. E indebolirla per due, tre giornate. Che potrebbe significare anche delle sconfitte. E quindi punti, molti punti in meno. però, adesso dico la mia, punire un giocatore che dà la sua maglia ai tifosi, vabbè che sono gli ultras, ma sono tifosi ragazzi. La curva nord è il tifo caldo, il cuore pulsante del tifo dell'Inter. È la curva nord, ok? La quale, curva nord, si dissocia da queste persone che hanno fatto cose illegali. L'ha già fatto e si è già dissociata. Comunque, vabbè, non ci crede nessuno. Gli altri, naturalmente, figuriamoci se ci credono. Però, la curva nord si è dissociata. dare la propria maglietta, quella di Accan Cialanoglu, mica la mia, eh? Quella di... Perché i tifosi la mettano all'asta, in modo che il ricavato di questa vendita vada alla popolazione turca dopo il terremoto e collegare, attenzione bene, collegare questo gesto a una connessione con l'andrangheta è una cosa che trovo a dir poco vergognosa. Vergognosa. E mi dà il volto a stomaco. Mi dà il volto a stomaco. Cioè, ragazzi... Perché poi avrebbe dovuto farlo? Eh? Perché si sarebbe dovuto connettere all'andrangheta? No, no, ma ditemelo, spiegatemelo perché. Per i soldi? Un calciatore dell'Inter che fa una cosa extra Inter per i soldi? Cosa super illegale, perché voglio dire, ti connetti con l'andrangheta, non è certo un'istituzione religiosa l'andrangheta, o benefica, ok? Ti connetti con l'andrangheta per i soldi? Non ne prendi già abbastanza? 6 milioni e mezzo all'anno. 6 milioni e mezzo all'anno. Ha bisogno di soldi? Cerchiamo di non essere ridicoli, ragazzi. O per costrizione, per paura. Ha paura di queste persone e allora si connette a loro perché, come dice il detto, se non puoi sconfiggerli, fatteli amici. Ma in questo caso non sarebbe un colpevole, sarebbe la vittima. Sarebbe una vittima. O no? So, lo so bene che ci sono tante persone che odiano l'Inter. Lo so, lo so. Ci so, lo so, lo so. Però è che farebbero qualunque cosa pur di danneggiarla. Qualunque cosa. Non si fermerebbero davanti a niente pur di danneggiarla. però attaccarsi a una cosa del genere mi dà il volto a stomaco. Scusate, ragazzi, ma mi dà il volto a stomaco. Vogliamo punirlo? Puniamolo con una multa perché ha disubbidito, ha un ordine preciso dell'Inter. Allora gli fai una multa. L'Inter gli fa una multa. Se lo punisce l'Inter va bene perché lui ha disubbidito. L'Inter è la sua società, l'azienda per la quale lavora, la quale azienda gli dà un ordine di fare questo o di non fare quest'altro. Lui disubbidisce e gli fanno multa. Giusto? Va bene. Ma l'andrangheta? L'andrangheta? Non siate ridicoli, per favore. Basta. Con queste stupidaggini c'è l'annogheta che si connette con l'andrangheta. Ma roba dell'altro mondo. Io veramente ho finito le parole per quelle buone. Le ho finite tutte. Mi rimarrebbero quelle che non voglio dire. Vabbè, dai. Ragazzi, non ve l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche, mettete un like, lasciate un commento se avete da dire qualcosa al riguardo, questo riguardo. Gli argomenti sono stati svariati per cui parlate un po' di quello che vi piace di più di parlare. Mi raccomando, iscrivetevi, soprattutto iscrivetevi e mettete un like. Ecco. Va bene? Vi ringrazio soprattutto se mi fate arrivare per Natale a tre mila iscritti e nel frattempo vi saluto. Absoluto burdel e burdel e Forza Inter. Forza Inter e adesso anche Forza Cialanoglu. Che dire Forza Inter è un po' dire anche Forza Cialanoglu. e Forza Lautaro e stiamo a vedere come andrà a finire. Absoluto burdel. Ciao.